Oggi per il nostro orgoglio personale, sono un arianese, auguriamo il secondo ufficio ad Avellino. Questo posto è un posto che prende dal cuore della mia nascita e credo molto in questi valori di benessere e pertanto è una società che ci lavora da 30 anni, meritava anche nella zona di Monteforte Irpino. Ho dei colleghi eccezionali, pertanto meritano questo bellissimo edificio, questi uffici che rendono fidelizzazione al cliente perché anche i nostri clienti devono essere seguiti, assistiti, devono sapere che esistiamo. Tenete conto che il gruppo Fillini a linea di Fiorano esiste dal 1876, non è oggi. La gente deve conoscerci ancora, ancora sempre di più. Siamo presenti anche per creare un punto di riferimento per i nostri tanti clienti e chiaramente per perfezionare quello che è già in corso. Il centro di ricerca in linea di Fiorano è presente sul mercato già da 141 anni, è una storia molto molto antica con prodotti innovativi e all'avanguardia. Il centro di ricerca in linea di Fiorano ha sviluppato tecnologie, sistemi innovativi e all'avanguardia che mettono sempre più il cliente nelle condizioni di aumentare la propria qualità di vita. Siamo qui oggi a inaugurare, a rafforzare insieme alla mia grande amica, nonché grande responsabile Loredana Morra, questo nuovo centro, questa nuova agenzia per dare un in più in questo territorio che merita tanto.